Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Vi leggo una cosa che ovviamente mi rende veramente molto molto perplesso ed è una cosa veramente grave, devo dire, che bisogna spiegare da questo punto di vista. E' una delle decisioni che l'altro giorno ha preso il CONI per quanto riguarda la Juve. Voi sapete bene che la Juventus ha fatto ricorso al CONI, c'è stata la possibilità tecnicamente ragazzi di andare al CONI per lamentarsi, per fare ricorso sui punti che sono stati tolti in classifica, questi punti sono stati temporaneamente riassegnati, poi però sarà la corte d'appello a decidere insomma le varie situazioni. Il fatto sta che però ci sono state anche altre decisioni prese dal CONI, tra cui quelli di rinviati alla corte federale d'appello, anche qui i ricorsi di Agnelli, Paratici, Cheubini e Arriva Bene, mentre accolti e assolti i ricorsi di Nedved e di tutti gli ex compurenti del CDA, che è inutile che facciamo i nomi, tanto sono tantissimi, eccetera, eccetera, eccetera. La posizione della Juve si alleggerisce notevolmente per la nuova udienza e voglio fare una piccola riflessione a proposito di tutto ciò, rivelandovi anche una cosa molto importante. Se la Juventus è stata, gli sono stati riassegnati i punti, vuol dire che il CONI non ha potuto dimostrare nulla, no? Che la strategia in generale non ha potuto dimostrare nulla. Quindi quella sanzione è stata giudicata esagerata ed è chiaro. Allora ci facciamo tutti una domanda, facciamo una piccola domanda, che ci facciamo fra poco, perché prima di farla e di parlarne dobbiamo parlare delle solite cose. Quindi noi siamo stati di fatto assolti per il momento. Prima di iniziare, come al solito, raga, vi ricordo sempre le solite cose perché è importantissimo. Io ve lo dico sempre, perdonatemi se sto a braccio o non sto appoggiato. Iscrivetevi al canale, like al video, attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, raga, è veramente molto molto importante. Basta iscriversi, cliccare ovviamente sulla campanellina delle notifiche per appunto avere le notifiche. E poi ovviamente se vi va, seguitemi sui social per rimanere sempre sempre aggiornati. Allora, se tu di fatto rinvii la decisione alla Corte federale d'appello, cosa vuol dire? Che tu non hai avuto la possibilità di comprendere la penalizzazione. Quindi tu, non la penalizzazione, nel senso, no, 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 proprio i 15 punti per te sono stati, diciamo, non idonei. Perché se i 15 punti fossero stati giusti e fossero stati dati con criterio, il CONI avrebbe potuto dire che guarda, io confermo la sentenza che ti hanno fatto, questi 15 punti rimangono, nel senso, rimane la sanzione. Noi non facciamo nulla, ma il CONI non l'ha potuto fare. E perché non l'ha potuto fare? Perché il CONI ha capito che da questo punto di vista non c'è un'accusa chiara nei confronti di questa squadra. La cosa che a me mi rende perplesso, sapete qual è, ragazzi? La cosa che mi rende veramente perplesso è il fatto che tu mi assolvi Nedved, che è il vicepresidente della Juve, è stato vicepresidente della Juve, dal 2015 fino ad adesso, quindi 8 anni ha fatto di vicepresidenza. Al tempo stesso mi assolvi tutti i componenti del CDA. Quindi loro possono tornare a lavorare, di fatto. Però, che cosa fai? Mi dici che la Juventus comunque non è possibile confermare i 15 punti. Mi dici che la Juventus comunque non c'è un'accusa. Mi assolvi Nedved e cosa fai con Agnelli, Paratici, Cherubini e arriva bene? Mi li rinvii ancora una volta, quindi mi confermi per adesso, insomma, quelle che sono le problematiche, no? Da questo punto di vista come si fa? Arriva bene, ad esempio, è arrivato all'interno della Juve due anni fa e, ad esempio, che senso ha, vi faccio un esempio, assolvere membri del CDA che sono dentro la Juve da Anna Vita e che quindi hanno lavorato durante le stagioni che tu stesso hai detto fossero sbagliate dal punto di vista gestionale ma non assolvere né Arriva Bene e né Cherubini che hanno preso comando praticamente solo negli ultimi due anni. Cioè, non ha senso. È l'ennesima sentenza che non ha senso. Su Agnelli e su Paratici è un altro discorso perché Agnelli e Paratici li avete presi di mira. È chiaro, Paratici addirittura si è beccato una squalifica internazionale e secondo me va al TAR. Perché va al TAR? Ma per farvi capire la situazione qual è e come è strana la situazione, il CONI non ha saputo neanche motivare queste squalifiche. Cioè, le motiverà probabilmente dopo ma per adesso non ha dato nessun tipo di motivazione. Cioè, Agnelli squalificato per che cosa esattamente? Per delle intercettazioni all'interno delle quali sosteneva che si dovesse risolvere il problema economico? Cioè, questo è un capo di imputazione grave? Cosa ha fatto Agnelli? Agnelli non ha mica intrattenuto rapporti con dei criminali, ragazzi. Non ha mica fatto delle cose gravissime. Cosa ha fatto Paratici? Ha comprato e venduto giocatori? È quello che doveva fare nel suo lavoro. Cherubini arriva bene neanche di commento. Sono arrivati negli ultimi due anni, che Cherubini faceva prima, faceva altre cose totalmente diverse dalla prima squadra. È arrivato in prima squadra due anni fa, arriva bene è arrivato, in tempo di arrivare l'hanno condannato. Cioè, vi rendete conto? Quindi c'è la possibilità che arriva bene si rivolga al Tar. E questa è la vera e propria notizia. Perché arriva bene, giustamente si è consultato e ha detto No, aspetta un attimo, io sono arrivato qui da due anni, ho fatto pochissimo all'interno della dirigenza della Juve, mi sono seduto, ho lavorato, ho cercato di sistemare i conti, anche perché lui è stato chiamato per cercare di mettere a posto i conti. Perché io sono stato squalificato? Cioè, perché io mi devo prendere una squalifica? Nonostante io non abbia fatto letteralmente niente, è la domanda che ci chiediamo tutti. Ma alla fine del discorso, e te lo dico un'altra volta, non c'è capo di imputazione chiara nei confronti di questa squadra. Perché questa squadra continua ad avere problemi, semplicemente perché il CONI non si sa esporre. Perché se il CONI avesse tirato fuori il coraggio e avesse detto chiaramente Oh, vedi che sta sentenza dei 15 punti, non sta scritta da nessuno, sta cosa qui non c'ha senso Allora ci sarebbe stata un'altra cosa, un altro modo di vedere le cose È chiaro che arriva bene da questo punto di vista, si arrabbi e dica Ma io perché devo sottostare le decisioni che non riguardano me? Quindi se arriva bene va al TAR, è come se al TAR ci andasse pure paradici, è come se al TAR ci andassero altre situazioni Quindi andando al TAR non è arriva bene che va al TAR solo per arriva bene Ma il TAR poi andrà a mettere in discussione l'intera Cioè andrà comunque a rappresentare un problema per coloro che fanno questo Perdonate ragazzi Perdonate ragazzi veramente l'abbassamento di voce Dicevo, se arriva bene va al TAR Se arriva bene va al TAR Arriva bene va al TAR per tutelare se stesso, ok? Ma quando arriva bene va a tutelare se stesso E il TAR dovesse dargli ragione E gli dovesse dire Guarda, è vero quello che dici tu La sanzione è esagerata e secondo me tu non c'entri niente Allora il TAR potrà anche modulare le sentenze degli altri Perché paratici potrà dire Ok, lui è stato assolto e gli è stata tolta la squalifica Però perché io che ho fatto il mio lavoro scambiando giocatori senza nessun tipo di capo d'accuso sono stato condannato Se fa paratici può andare pure Cherubini Dice aspetta pure io però ho comprato i giocatori che li ho venduti a modo mio Perché lui è stato assolto e io non sono stato E' tutto collegato Quindi da questo punto di vista Andare al TAR per quanto riguarda arriva bene Potrebbe rappresentare veramente un grandissimo punto a favore per quanto riguarda l'inchiesta Perché l'inchiesta potrebbe tradursi in questo Potrebbe andare a devolversi in una situazione mediante la quale i principali soggetti dell'inchiesta Si vanno a far sì che insomma il TAR indaghi sulla vicenda Perché onestamente parlando ragazzi ve lo dico con tutta l'onestà di questo mondo Sta sentenza del CONI è una sentenza che non si è capita Ma non si è capito perché è chiaro che il CONI volesse rinviarlo senza Volesse togliere la penetrazione senza rinvio Voleva togliere i punti il CONI E solo per la presenza di determinati soggetti all'interno del CONI Che comunque si è rinviata Ma rinviare esattamente di che cosa? Di che cosa stiamo parlando? Cioè io di che cosa parlo? Di che cosa stiamo parlando? Di una squadra di calcio che vende i giocatori? Di un dirigente che fa il suo lavoro comprando e acquistando giocatori? Cioè a me non mi sembra chissà che cosa sta facendo di sbagliato Poi se per voi tutto questo è illegale Allora lì alziamo l'altro Perché non andiamo a vedere gli altri dirigenti della Serie A quello che hanno fatto? Perché ci sono dei dirigenti in Serie A che letteralmente fanno quello che vogliono E nessuno viene a contestare a loro niente Quindi perché non andiamo a vedere anche gli altri della Serie A cosa fanno Invece di andare sempre e comunque sempre dai solidi? Che adesso la situazione è diventata un po' paradossale Secondo me è diventata anche un po' stupida Perché ci troviamo di fronte ad una decisione che è stata annullata Però correndo io perché io non so, non mi posso prendere Non so cosa ti devo dire Perché questo, quello che dico, non sanno neanche Non si sa neanche loro Cioè la sensazione che io ho è che loro non sappiano neanche cosa dire Sinceramente in questo momento Quindi questa è la mia opinione Onestamente sulla cosa Fatemi sapere un pochino nei commenti le vostre opinioni Perché voglio sapere un po' le vostre sensazioni Eccetera eccetera